Aiutare gli altri, impegnandosi nel sociale, la strada da percorrere per aiutare anche se stessi. È la cura contro il disagio e il malessere esistenziale, in questa fase storica di vuoto di valori, da proporre soprattutto ai giovani, i cosiddetti millennials. Claudia Conte, scrittrice, giornalista, volto noto della TV, da sempre attenta ai diritti umani, lo fa nella Voce di Iside. Il libro, uscito lo scorso aprile, è il quinto lavoro dell'autrice classe 1994, originaria di Aquino, in provincia di Frosinone. Iside è una diciottenne che, a seguito della pandemia e di problemi familiari, si è rifugiata in un mutismo selettivo. Scopre il volontariato, interessandosi alla violenza di genere. Il percorso verso gli altri l'aiuta a guarire. Presso l'Hotel Europa, una delle tappe della presentazione del libro, a introdurre quella che definisce una stella che nell'occasione brilla a Isernia, il direttore di TV Molise, Enzo Di Gaetano. Il volontariato lo fanno anche i grandi manager delle multinazionali. E se questo bellissimo valore della solidarietà si scopre da bambini, si supera il disagio. Si ritrova anche la socialità nella condivisione, la bellezza delle relazioni e la scoperta anche della bellezza della vita e anche il desiderio della responsabilità sociale. Quindi portare valore ai territori in cui si vive. Ecco qui siamo in Molise, a Isernia. Non dobbiamo dimenticare la bellezza anche delle aree interne dei borghi che spesso i giovani abbandonano, lasciano e questo è il grave problema oggi. Rischiamo che questi paesi meravigliosi siano abitati soltanto da persone anziane e che i giovani invece preferiscano cercare opportunità fuori.